Salve gente e benvenuti a questo mio video dedicato a Gran Turismo 6 Video dedicato a questa gara qui, degli eventi stagionali, questa in Toscana, sullo sterrato che non l'avevo ancora fatto e siccome scade tra due giorni, chiude tra due giorni volevo farla per fare qualche credito con l'impresa WRC del 2008, vediamo un po' come va penso che dovrebbe essere una gara su sterrato, quindi testa con altre auto da rally che non è che sia un granché effettivamente, visto che la polvere alzata dagli avversari causano un poco fastidio, ok vediamo un po' come va, è abbastanza breve immagino non so tra l'altro quando caricherò questo video perché sicuramente magari potrebbe darsi che caricherò altri video prima di questo e potrebbe andare molto in là nel tempo non so, vedrò magari caricherò altri eventi che usciranno prima in base a come, se riescerò a registrarne di nuovi o se uscirà qualche evento interessante perché questo gruppo qui ad esempio di eventi non era stato molto interessante, masco il car, rally e auto elettriche non erano un granché come eventi però va bene vediamo un po' di fare un pochino di soldi con questo visto che ha il 200% di bonus e se sentirete un po' di trambusto è il volante che scatta è un po' di trambusto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fa di quelle frenate. E col polverone è ancora peggio perché non si vede nulla, non ci si accorge delle frenate. E' scivolata via troppo. Quando scivola via si perdono un sacco di chilometri orari. Grazie a tutti. E' la 205 viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una piccola toccatina ma ripeto. Per me non hanno senso queste gare. Le gare di rally hanno senso come prova a tempo. Non come sfida diretta. Sarebbe bello avere le parallele. Le gare in parallelo a questo punto piuttosto che queste cose. e le gare in parallelo a questo punto piuttosto che non si vede nulla, non si vede nulla, non si vede nulla, non si vede nulla, non si vede nulla. Ok, beh dai, sì come avevo detto una gara breve, sei minuti circa. E per lo meno l'ho fatta anche questa, di quel gruppo lì di tre gare auto elettriche ma scolcare auto da rally. Sinceramente quella dell'auto elettriche mi rifiuto di farla perché è proprio il peggio a mio parere. Ok, vinta anche questa, vediamo quanti crediti, forse un 300.000 crediti. Che non sono tantissime ma non si butta via niente. Ah, 300.000 spaccati, perfetto. E una vernice. Ok. Mi era stato chiesto tra l'altro da qualche utente di fare questa gara e di caricarla. Mi dispiace di non averla caricata subito ma sinceramente non ho avuto molto tempo per registrare. Adesso vedrò, probabilmente quando la caricherò saranno già terminati gli eventi, però magari a qualcuno può far piacere guardarla lo stesso. E niente, vi saluto e ad un prossimo video.